In Italia non c'è una condizione possibile per avere un governo che realizzi cose per gli italiani, per tirarci fuori dalla crisi, per affrontare la pandemia. È disgustoso vedere questo balletto di poltrone con gente attaccata alla sedia che non riesce a scollare e che usano la pandemia come scusa per rimanere al potere. E allora diamo il voto, rapidamente, velocemente, e diamo all'Italia una speranza legata a un Presidente del Consiglio capace e autorevole. Un nuovo governo potrebbe però anche portare a rallentamenti per quanto riguarda i progetti del Recovery Fund, il Ristori, eccetera. C'è paura comunque di uno stop per delle cose importanti in questo periodo di crisi economica? Guardi, crediamo al contrario. Crediamo che invece potrebbe portare oggi le elezioni a rendere più veloce un processo di realizzazione di opere che servono. Il Parlamento si è dimostrato in più occasione, grazie all'opposizione, particolarmente responsabile rispetto ai grandi accadimenti e ai fatti che servivano a tutta la nazione. Noi confermiamo la nostra disponibilità a lavorare in questo senso, purché si fissi la data alle elezioni, quindi da una parte si lavora in Parlamento nell'interesse generale, ma si dia la possibilità al popolo di scegliere chi vuole che lo governi. È impossibile pensare che continuino a governare un branco di trasformisti o gente che ai cittadini ha raccontato una cosa e ne ha fatto un'altra e ha entrato in Parlamento. Un appello a Mattarella? Noi auspichiamo che il Presidente della Repubblica si renda conto di quello che sta accadendo pienamente e ci dia la possibilità di votare.